Ciao, ti ricordi di noi? Non siamo spam, siamo i ragazzi del controllo popolare. Ci siamo conosciuti su internet o nei seggi durante le elezioni amministrative del 2016. In quell'occasione la nostra idea ti è piaciuta tanto. Abbiamo riportato in questa città martoriata dal voto di scambio e dalla disunica amoressica alla politica una pratica, quella del controllo popolare. In questi mesi non siamo spariti. Qui all'ex OPG abbiamo continuato con le nostre attività quotidiane. Sportello medico popolare, sportello legale contro il lavoro nero, grigio contro lo sfruttamento, dopo scuola sociale, palestra popolare e tanto altro. Un paio di mesi fa abbiamo lanciato una sfida. Abbiamo deciso di candidarci alle prossime elezioni. Ci siamo coordinati con tantissime altre realtà sparse in tutto il paese che portano avanti un lavoro molto simile al nostro. Abbiamo raccolto più di 50.000 firme. Ebbene, oggi siamo qui a chiedervi un voto di scambio. No, non siamo i grandi politici che a giendina alla mano possono contattare le loro clientele. Il massimo che possiamo fare è metterci in contatto con chi abbiamo conosciuto, con quelli che condividono la nostra visione del mondo e della politica. Quindi niente spesa al discount, niente 20 euro, nessuna promessa in un posto fisso. Quello che vi promettiamo è di continuare con le nostre battaglie. E una volta in Parlamento, quello di dar voce a chi questa voce non ce l'ha. E' quello di innescare un processo di partecipazione popolare. Qui trovi il nostro programma e i nostri candidati. Nonostante l'oscuramento mediatico, in realtà siamo molto vicini al 3%, quindi dacci una mano e il 4 marzo vota e fai votare il potere al popolo. Grazie a tutti.